allora siamo il tredici del mese di e dunque siamo a capitolo sessantanove anche anche Francesca Narciso Francesca ciao carissima Francesca Tavesi René Renata ecco si è messa il nome di italiano la menaceche al soshanini oshini elohim ki vao mai av nev tavati bivain vain m'amma vati vama m'amma vishibolet sammo al sammertet sessantanove sammertet da' iageti becorai Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. Amen. a tutti. Grazie 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 a tutti. Aramaico. Grazie a tutti. 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 e... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.